Dunque ragazzi eccoci tornati con un piccolo video aggiornamento per quanto riguarda Dragon Ball Sparking Zero e quello che vedremo alla fine del mese, ne abbiamo già parlato in un video precedente Ma c'è un piccolo aggiornamento importante per quanto riguarda appunto l'evento Ma prima di iniziare mi raccomando ragazzi fate un salto su fandomio.com dove troverete un sacco di magliette a tema Dragon Ball e altri anime Quindi se potete fare un salto mi raccomando utilizzate il codice sconto jacksard per fare il vostro acquisto e risparmiare Detto questo ragazzi qual è l'aggiornamento sul Battle Hour, evento dove in teoria dovrebbero mostrare Sparking Zero Questo evento ragazzi dovrebbero trasmetterlo in streaming appunto il 28 gennaio ma c'è stata un po' di confusione nella comunicazione Perché prima hanno detto no non faremo nessuna dieta streaming Poi si sono rimangiati la parola e hanno detto si ci sarà dieta streaming ma non tutto verrà mostrato Quindi questo mi fa ipotizzare che molto probabilmente durante l'evento oscureranno i vari trailer E se lo fanno ragazzi è una grandissima stronzata Ma il fatto è che era già successo l'ultima volta con Dragon Ball Diamond Nel mostrare il primo trailer di Dragon Ball Diamond oscureranno praticamente tutto durante la dieta streaming E questo è veramente una cazzata una merda perché il 2024 fare una cosa del genere è veramente da idioti ragazzi idioti Le dirette streaming sono ormai la norma la norma per mostrare gli eventi come cavolo fai a oscurare Che cavolo vi oscurate dico io ma che cazzo fate Io spero assolutamente che non facciano una stupidaggine del genere perché sarebbe veramente assurdo Sarebbe proprio una stupidaggine è una roba fuori di testa nel 2024 Perché non parliamo di un evento nei primi anni del 2000 dove ci sta che l'evento lo puoi seguire soltanto dal vivo Perché insomma il periodo era quello Ma al giorno d'oggi dove tutto viene mostrato il streaming Devi farlo deve assolutamente farlo Ed è soprattutto molto atteso questo battle hour Più degli altri anni Gli altri anni manco sapevo che esisteva questo battle hour Quindi non puoi fare un errore del genere Anche perché è un evento dove verrà mostrato più del solito Non solo Sparking Zero ma pare che mostreranno anche il nuovo DLC Di Dragon Ball Z Kakarot Mostreranno Dragon Ball Dime Ma potrebbero mostrare anche il nuovo aggiornamento per quanto riguarda Xenoverse 2 Ma su questo magari ho qualche dubbio perché potrebbero volersi concentrare principalmente più su Sparking Zero Quindi non lo so Però comunque c'è più contenuto del solito che interessa praticamente mezzo mondo E tu non puoi fare una diretta streaming dove non mostri tutto È assurdo E allora a questo punto che cavolo la fa fare la diretta streaming Non farla propria e vai a cagare Sinceramente ragazzi Lo dico sinceramente E quindi io personalmente ragazzi non farò nessuna diretta streaming Perché già un po' sentivo la puzza di fregatura da questo punto di vista Non vorrei stare lì 10 ore a seguire un evento Che sinceramente non è che mi interessa più di tanto ragazzi Perché poi non è un tipo di evento come il PlayStation Showcase Dove vengono mostrati diversi giochi e ha una piccola durata È un evento che può andare avanti per un bel po' di ore Un po' di ore dove magari non è che me ne frega tantissimo di quello che fanno Dove giocano a carte e giocano ai vari giochi di Dragon Ball Cioè ci può stare ma non lo voglio seguire ore e ore e ore Visto che quello che mi interessa principalmente è Sparking Zero E gli altri trailer degli altri contenuti di Dragon Ball Quindi con molta probabilità vedrete tutto poi sul canale con reaction e analisi Il 29 gennaio la mattina perché l'evento ci sarà tra la sera del 28 gennaio e l'inizio del 29 gennaio Quindi nella notte e quindi a quel punto ragazzi caricherò tutto La mattina seguente e analizzeremo il tutto con calma Sinceramente preferisco fare così piuttosto che seguire un evento Che può durare tantissimo Potrebbero non mostrare una mazza E sinceramente così non ha senso Una rottura veramente di scatole ragazzi Ed è assurdo ragazzi è veramente assurdo che ne stiamo anche solo parlando Doveva essere ovvio Doveva essere ovvio che dovevano mostrare tutto Senza creare confusione nel pubblico Perché poi magari mostrano anche tutto Ma per come l'hanno detta Non si capisce niente Non si capisce quello che mostrano effettivamente E sinceramente seguire un evento dove manco loro sanno quello che fanno Non mi sta bene sinceramente Non mi sta bene e recupererò tutto dopo Quindi ragazzi comunque ad ogni modo il 29 gennaio 28 Qualche sarà ci saranno i contenuti Quindi comunque arriverà su questo è poco ma sicuro Cambia soltanto la modalità di come vedrete questi contenuti sul canale Quindi tutto qui ragazzi Alla fine il discorso è abbastanza semplice Prima però di chiudere il video ragazzi Volevo aprire una piccola parentesi Che non c'entra con tutto questo Ma sempre con Dragon Ball Non so se avete visto l'ultimo video di Gianluca Iacono Il doppiatore di Vegeta Che ha pubblicato un video su Paolo Torrisi Dove sono saltate fuori nuove immagini Del doppiatore storico di Goku Ed è stato qualcosa che mi ha un po' emozionato ragazzi Perché sicuramente saprete tutto un po' il mistero Che avvolge questo doppiatore Che non si è mai mostrato tantissimo davanti le telecamere Nonostante fosse anche un attore Nonostante su internet possiamo anche trovare dei film, serie Dove appunto lui ne fa parte Ma purtroppo non abbiamo mai avuto un'intervista O un video più recente Magari anche durante il periodo del doppiaggio di Dragon Ball Durante quel periodo purtroppo non abbiamo veramente nulla Però sono saltate fuori delle nuovissime immagini di Torrisi Che magari vi mostro anche in questo video Foto che mi hanno un po' toccato ragazzi Perché non pensavo nel 2024 Di vedere nuove immagini di Torrisi Che resterà sempre assolutamente Il doppiatore unico e solo di Goku Non me ne voglia moneta E involontariamente ragazzi È stata anche una persona che ci ha cresciuto Con Dragon Ball Quindi quella voce talmente familiare Che poi unirla ad un volto Mi ha fatto un certo effetto Quindi volevo ricondividere queste immagini Qui con voi nel video Nel caso in cui ve le foste perse Comunque detto questo ragazzi Niente Aspettiamo quindi fine mese Per queste news Sparking Zero Dai ma è tutto quello che arriverà Però purtroppo la modalità È quella che è Non si capisce È incomprensibile Magari mostreranno tutto nell'evento Magari cambieranno idea Magari hanno già letto Tutte le lamente del pubblico Che vi ha detto Ma che cazzo state facendo Mostrate tutto e basta Io attenderò aggiornamenti Per quanto riguarda il canale ufficiale Così una volta che escono i trailer Mi riguardo Facciamo reaction E stiamo a posto Quindi ragazzi Per quanto riguarda Sparking Zero A questo punto direi che Non c'è più nient'altro da dire Ci sono ancora due settimane di attesa Ma speriamo che siano aggiornamenti Veramente molto importanti Speriamo nella data di uscita Perché io ci credo ragazzi Ci credo nella data di uscita E speriamo anche In un annuncio di una beta Perché vorrei assolutamente provarlo Detto questo ragazzi Iscrivetevi al canale Per non perdere i prossimi aggiornamenti Per quanto riguarda Sparking Zero E sono molto 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 curioso Peccato per l'evento Che sia fatto un po' col culo Detto questo Ragazzi vi saluto E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao a tutti 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 Ciao a tutti